Si corre con i giornalisti in Italia al microfono. Allora, due punti, uno per Palermo e uno per Cagliari, uno con una squadra ostica che comunque il Parma ha dominato un atto su un campo ostico che gli il Parma non ha certo sfigurato. Sono stati due punti, guadagnati o ne abbiamo perso qualcuno secondo te? Sicuramente facendo l'analisi delle due partite qualcosa manca, perché se col Palermo sicuramente meritavamo la vittoria, a Cagliari in una partita per virgolette equilibrata abbiamo avuto il match con il tempo scaduto che è stata a casa anche lì la vittoria, quindi qualcosa sicuramente manca, cioè rimane quantomeno le due manifestazioni fatte dalla squadra. E quindi quando la difesa è stata messa magari sotto accusa, questa volta invece la difesa in queste ultime uscite, la difesa di cui tu per parte si è comportata piuttosto buona? Ma sì, diciamo bene o male, insomma è un periodo che in fase difensiva la stiamo facendo bene, ci sono momenti che con l'unica occasione che prendi, prendi gol e altri invece che magari subisci tante occasioni, però non prendi gol. Penso che è importante sia il fatto che noi ultimamente stiamo concedendo poco e penso che quello sia la cosa più importante. La traietà è un momento di fare il colpazzo, diciamo, come ha detto quello fa, vi state esagerando quei pareggi, adesso sono due partite, ma è una più che alla portata? Ma alla portata sicuramente una vittoria avrebbe più valore ai miei pareggi precedenti, però non c'è niente di scontato, noi l'abbiamo dimostrato sulla nostra pelle in più di un'occasione, non ci sono partite facili in Serie A, non bisogna guardare la classifica e sicuramente non bisogna pensare ad essere più forti del Lecce perché sennò andiamo contro A a brutte figure. Lecce è una squadra che ha giocatori molto validi in ogni zona del campo, è affamata di punti, e ogni partita per loro ha uno spareggio, quindi che deva recuperare posizioni, quindi sarà come tutte le domeniche una partita difficile. Noi da parte nostra dobbiamo continuare su quella strada che abbiamo intrapreso da un po' di tempo a questa parte con il nostro equilibrio che abbiamo trovato cercando di limare ancora quei piccoli difetti che abbiamo, lavorare su quello e cercando di migliorarsi sempre. Senti, mi dai un giudizio, lo dico dall'alto della tua esperienza, su questo tipo di campionato? Ci sono risultati strani e parecchie squadre che non hanno trovato ancora un proprio equilibrio, la strada giusta, e in virtù di questo ti chiedo se il Parma possa anche approfittarlo una volta che avrà trovato un passo un pochino più equilibrato. Ma sicuramente questo è un campionato molto equilibrato, non ci sono risultati scontati, tutti possono fare risultati contro tutti e penso anche noi facciamo parte di questa schiera di formazioni. Come ho detto prima, noi in Fabricoletti un certo equilibrio di prestazione abbiamo trovato, e se andiamo a vedere sicuramente a noi manca qualcosa a livello dei punti, quello che abbiamo dimostrato fino ad oggi, però abbiamo anche tanti e ampi margini di miglioramento, quindi lavorando su quello sicuramente non potremmo fare, e approfittando di questo grande equilibrato che c'è, potremmo fare un bel campionato. Senti, io ho visto in questa prima parte di stagione un Lucarelli su ottimi livelli, come veramente nei periodi migliori, ti chiedo da un punto di vista psicologico, ti senti tranquillo? Ieri insomma si è tornati a parlare di te, di questa tua vicenda giudiziaria, mi interessa solo un sì o no, tu da un punto di vista prettamente calcistico sei tranquillo? Assolutamente sì, perché non, come posso dire, soprattutto a Livorno piace dare risalto a questa cosa come se non esistessero problemi che ci sono in questo momento, si parla di crisi, di escensione, povertà, pensione, invece fortunatamente a Livorno questi problemi non li abbiamo, a Livorno interessa solo sapere cosa fa la famiglia Lucarelli, quindi questo, ecco, mi ritengo fortunato da essere dato a Livorno. Comunque sia questo assolutamente non mi distoglie per quello che è il mio lavoro perché nonostante il risalto che viene dato è una cosa veramente banale, quindi per quanto mi riguarda lascia il tempo che trova. Alessandro, ultima domanda riguardo a Lecce, un cambio di allenatore, un cambio di modulo con una dipresa passata a 5, tre punti che non sono arrivati per i salentini contro la Lazio però avendo disputato una bella gara, cosa ti aspetti da questa squadra domenical tardi, cattiveria? No, io mi aspetto una squadra veramente difficile da affrontare perché è una squadra che ha gamba, è una squadra muscolare, ha giocatori molto validi, ho scoperto un quadrato, un uomo, giocatori molto bravi sia veloci che anche tecnicamente. Con la Lazio abbiamo visto la partita, se finiva il primo tempo 4-5-1 per Lecce non ce l'ha dato di niente, quindi questo è tutto dire sulla partita che andiamo a affrontare. Questo non significa aver paura del Lecce, ma significa avere grande rispetto del Lecce. Però anche noi, insomma, in casa abbiamo dato filo da torci a tutte le squadre, quindi ci stiamo preparando bene per fare una bella partita. Altre domande? Grazie.